Abbiamo avviato il percorso per la reintroduzione delle province in Sicilia con l'elezione diretta di Presidenti e Consigli. Così il Governatore della Sicilia, Renato Schifani, alla presentazione del relativo disegno di legge adottato dalla Giunta. Il testo riprende la proposta depositate in Commissione Affari Costituzionali del Senato, adattata al contesto normativo siciliano. In un documento diffuso dalla Regione, Schifani si dichiara ottimista su un iter veloce in Assemblea, attraverso anche un confronto con tutte le forze politiche. Le province saranno sei, più le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Il progetto di riforma individua gli organi di governo e la loro composizione, introducendo la figura del consigliere supplente. Stabilisce inoltre le quote rosa nelle liste con almeno un quarto delle candidature riservato alle donne. Prevista la doppia preferenza di genere, come nei comuni, per le province con popolazione superiore al milione di abitanti, sono previsti 36 consiglieri e 9 assessori al massimo. Per quelle tra 500 mila e un milione di abitanti, 30 consiglieri e fino a 7 assessori. Per quelle con meno di 500 mila abitanti, è il caso di quella nissena, si potranno eleggere 24 consiglieri, mentre le giunte avranno massimo 6 assessori. Il disegno di legge fissa le competenze dei nuovi organismi. Alla conferenza di presentazione, anche l'assessore alle autonomie locali Andrea Messina, che esprime l'auspicio che si vada al voto già nel prossimo autunno o nella prossima primavera, considerato che ci sono delle condizioni che non dipendono soltanto dalla regione. Infatti, l'entrata in vigore della legge, dopo l'approvazione in assemblea regionale, è condizionata dall'abrogazione del legge del Rio da parte del Parlamento nazionale. Le province abolite sono state rimpiante da tutti gli italiani. Non vedo grandi resistenze sulla reintroduzione. Si troverà naturalmente un'intesa, sia con l'Anci che con l'Upi. Ci saranno delle concertazioni, le audizioni sicuramente in commissione, però il dato è tratto. Partiamo già da uno schema storicamente condiviso che aveva funzionato. Abbiamo assistito a decenni di commissariamenti delle nostre province e adesso, così, in ottemperanza, anche al nostro programma di governo abbiamo ritenuto opportuno e l'abbiamo fatto in tempo record, come vedete, di ridare di nuovo vita alle province con il voto a soffraggio universale.